Grazie capitano, di te vado fiero e tu di cosa vai fiero? Io vado fiero della mia storia, vado fiero di quello che ho fatto e se ho lasciato un segno, voglio dire, ho fatto cose importanti. Sono tornato a Pavia nella mia città perché io sono fiero di Pavia, sono fiero dei ragazzi, so che questa città qua vive di pallacanestro, ha bisogno di respirare ancora aria importante, cestistica e quello che io ho fatto da giocatore, quello che farò anche fuori in altra veste sarà finalizzato a questo. Volevo chiedertelo dopo ma a questo punto te lo chiedo, qual è quest'altra veste? No, mi piacerebbe allenare. Adesso io credo che ho finito un percorso, ho tirato anche a lungo questo percorso qua perché c'erano delle motivazioni importanti tra cui mia figlia che ha un'età ancora ingenua per entrare in campo con me a fine partita senza vergognarsi e fare il giro. Questo mi riempie il cuore e non volevo privarmene. Adesso piacerebbe allenare, piacerebbe mettere a disposizione la mia esperienza per i ragazzi o comunque iniziare anche io a formarmi come allenatore a livelli diversi. Quindi sempre però legato alla pallacanestro, alla mia vita. Ultima giornata sul campo per quanto riguarda le partite casalinghe, tra l'altro giornata molto importante per la tua squadra. Sì, sì, sì. Probabilmente non tanti sapevano che questa partita qua era fondamentale per chiudere qua la stagione, per evitare un'ipotetica classifica particolare che ti portava a fare i play-out immeritati in una stagione come questa. Quindi non era una partita facile per me, ho cercato di godermela fino alla fine. Sono stati bravi ragazzi pronti via a dare 20 punti a Montecatini e quindi tutta la partita è stata in discesa. Ho avuto modo di godermela ogni minuto senza l'ansia del risultato. Per finire, un momento da incorniciare. Abbiamo visto prima incorniciate tutte le tue magliette, ma se dovessi scegliere un momento della tua carriera da incorniciare per chiudere, quale sarebbe? Beh, io quello che ho vissuto in nazionale non l'ho vissuto in nessun club. Il partito dal basso sono arrivato a giocarmi i mondiali in Giappone contro gli Stati Uniti e quella maglia lì aveva un colore, un odore, un peso straordinario. Lo immagino, grazie mille. Grazie a voi.